24 febbraio 1463. Nasce Giovanni Pico della Mirandola, umanista e filosofo italiano. Il suo pensiero si ispira al platonismo di Marsiglio Ficino, a cui cerca però di aggiungere elementi della tradizione esoterica di Ermete Trismegisto e della Kabbalah. Pico della Mirandola pone inoltre al centro dei suoi scritti il tema della dignità e della libertà dell'uomo. Muore nel 1494.